Ah, San Valentino! Festa che fa ricordare alle coppiette di essere carini e coccolosi col proprio partner, ma al di fuori di quello. Io mi rivolgo principalmente con i maschietti, no? Raga, ci sta fare mille regali alla propria ragazza per San Valentino, portarla a cena fuori, fare un viaggio assieme, assolutamente ci sta! Ma ci starebbe molto di più se le stesse cose che però fate e regalate alla vostra ragazza le aveste prima fatte con vostra madre. Ma non per qualcosa, ok? Ma giusto così, no? Per un minimo di rispetto, perché comunque la tipa, anche se fosse la relazione più seria del mondo e durasse tutta la vita, rimarrà sempre la vostra ragazza. La madre rimarrà sempre la vostra madre e a prescindere da tutto avete un bel rapporto, un rapporto di merda, comunque cosa, è vostra madre, raga. Quindi guardatevi un attimo in faccia, fatemi un esamino di coscienza prima di fare cose.